Il 30 dicembre si prendono le decisioni, il 31 si festegge alla fine dell'anno, il primo parte del mercato, quanto sarà importante eventualmente avere uscite e entrate velocemente per sfruttare quei 20 giorni fino alla prima partita del 2016? Il primo è importantissimo perché comunque mi permette già la pausa di poter lavorare, quindi invitare i nuovi giocatori eventualmente il lavoro che facciamo in solito è importante, ma questo è una norma, è un po' come la costruzione della squadra anche durante il mercato estivo e prima di rimanere i nuovi giocatori, anche per il tempo, non ce ne è tante queste sessioni, quindi prima di rimanere i nuovi giocatori. Allora prima di entrare ancora con i messaggi...